Maltrattamenti ed estorsioni nei confronti della madre. Agenti della questura di Brindisi hanno tratto in arresto il 39enne Brindisino AS. Queste le iniziali di un pregiudicato che ha costretto la donna a continue violenze fisiche dalle minacce e da ripetute azioni estorsive. I fatti risalgono ad ottobre 2016 quando la donna, al termine dell'ultimo maltrattamento, è fuggita da casa ed è stata ospitata da familiari trovando il coraggio di raccontare anni di soprusi maltrattamenti agli operatori delle volanti e perpetrati dal proprio figlio. L'uomo, sempre più assetato di denaro, ha iniziato con furti di gioielli e quadri in casa per poi passare all'estorsione del denaro e perfino a strapparle di dosso la sua stessa collana. Poi, nonostante sapessere che le condizioni economiche della famiglia fossero proibitive, ha preteso i pochi soldi rimasti. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio 2017, due equipaggi della sezione volanti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi per i reati di maltrattamenti e distorsione con recidiva reiterata. L'arrestato, infatti, ha già subito denunce per reati specifici nei confronti di altre donne per i quali era già stato condannato e sottoposto a misura cautelare. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria.